Colpo di scena nella vita di Flavio Briatore. L'imprenditore si è avvicinato sempre più all'ex compagna, infatti è stato lui stesso a postare delle Instagram stories inequivocabili. Subito la gente ha pensato ad Elisabetta Gregoraci e alla sua possibile reazione, dato che anche lei sembrava sempre più prossima all'uomo. Quest'ultimo ha ora compiuto un passo importante. C'è stata infatti una svolta decisiva da parte di Flavio Briatore, che è sempre più affine con l'ex compagna nonostante in passato si fossero allontanati. Insieme a loro c'era una moltitudine di gente famosa, ma certamente gli occhi sono stati puntati tutti sull'imprenditore e questa donna, che hanno rubato completamente la scena. Flavio Briatore insieme all'ex compagna. Cosa hanno fatto? Momento fondamentale per Flavio Briatore, che ha ripreso del tutto i contatti con l'ex compagna addirittura prendendo una decisione rilevante sul futuro lavorativo. Si sono messi d'accordo per raggiungere un traguardo molto interessante, ma tutti si stanno chiedendo a gran voce cosa ne pensa Elisabetta Gregoraci, che potrebbe iniziare ad avvertire gelosia. Il riavvicinamento di Briatore c'è stato con Heidi Klum, che è diventata socia in affari con lui. Infatti, hanno aperto il primo locale Crazy Pizza negli Stati Uniti, precisamente nella città di New York. L'inaugurazione è stata un successone, con tante personalità famose presenti. I camerieri hanno dato spettacolo con le pizze, ed è stato possibile anche leggere menù particolari, dato che saranno in vendita anche le pizze ananas, prosciutto cotto e peperoncino verde. Elisabetta Gregoraci non ha ancora commentato questa notizia, ma potrebbe anche farlo presto. Briatore è stato legato con la top model tedesca per un breve periodo, ma da lei ha avuto la figlia Leni Klum, nata nel 2004.